Soliano ed è la rete del 4-3 e qui il gol capolavoro, sforbiciata di Centofanti, sforbiciata di Agostini, grande gol, lo rivediamo, merita il gesto atletico di Centofanti, stupendo, vedete la perfetta coordinazione, la girata, la traversa, Agostini segue con attenzione e fa onore alla sua fama del condor dell'aria e rimette dentro un...